San Galli, Bellusti, Ritornatori sono per spaziole, bravi! E quindi sono un po' più diretti. Ok, bravi, dai! Esterno! Grazie tutti insieme, dai! Bossa Stevanovic e Back Judge Alessandro Robledo. Passiamo! Dai coach che non puoi! Dai, dai! 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 Adesso, tutti i piedi di Lindo Pizzanella! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.